...si gira voce ma mo leggo sta roba che ti sei lasciata con Ergy è vero raga basta basta ho detto che non ne parlo basta non per una questione che non voglio raccontarvi che voglio fare hype ma perché è prematuro parlarne adesso cioè non sono pronta a una cosa del genere non voglio parlarne adesso basta basta adesso no poi ve ne parlerò parleremo di questa cosa non non me la terrò per me per lasciarvi nel dubbio ne parleremo però quando sarà il tempo giusto capito? cioè non cioè non è che voglio nascondere le cose voglio fare dell'hype tutto quello che vedete è vero e ne parleremo non è che voglio fare l'hype non è che voglio fare l'hype